Bentornati a tutti voi su Via della Fede. Approfondiamo insieme il Vangelo di oggi. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi Paolo e Silvano e Timoteo della Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio, Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo. A voi grazia e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede fa grandi progressi e l'amore di ciascuno di voi verso gli altri va crescendo. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle Chiese di Dio per la vostra perseveranza e la vostra fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate. È questo un segno del giudizio di Dio, perché siate fatti degni del regno di Dio per il quale appunto soffrite. Il vostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con la sua potenza, porti a compimento ogni proposito di bene ed opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù parlò dicendo «Guai a voi, scribi e farisei ipocrite, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. A voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della Ghenna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche che siete. Se uno giura per il Tempio, non conta nulla. Se invece uno giura per l'oro del Tempio, resta obbligato. Stolti e ciechi, che cosa è più grande? L'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora «Se uno giura per l'altare, non conta nulla. Se invece uno giura per l'offerta che vi è posta sopra, resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande? L'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra e chi giura per il Tempio, giura per il Tempio e per colui che lo abita e chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso». Parola del Signore Lode a te, o Cristo Commento al Vangelo Ciao a tutti e ben ritrovati questo lunedì su Via della Fede Oggi vorrei fare gli auguri a coloro che si chiamano Melchisedec ma devo dire è un po' difficile Oggi ho messo questo santo agli onori dell'altare poiché è davvero un santo grandissimo Gesù stesso è proprio sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec quindi davvero un grande santo ma è anche Sant'Alessandro da Bergamo è Santo Ronzo San Massimiliano di Roma San Giovanni Paolo I adesso leggevo anche perché tutti a memoria non li ricordo quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano così e che questi santi di oggi davvero possano aiutare ognuno di noi nel cercare di comprendere meglio questi passi del Vangelo ma abbiamo necessariamente bisogno dello Spirito di Dio dunque che fra le mie parole e la vostra mente lo Spirito possa darci quella comprensione che è necessaria cominciamo dunque con il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce concedici o Paraclito la tua intelligenza perché mediante questa possiamo comprendere le parole del Vangelo camminare verso il Padre nostro che è nei cieli Padre, donaci la forza anche per affrontare questa settimana il tuo amore per condividerlo con chi abbiamo vicino oltre ad averne bisogno noi dunque questo Vangelo è un Vangelo dove Gesù si arrabbia si arrabbia molte volte ma penso che alterato sia stato davvero tante perché la pazienza ha comunque un limite seppure lui è Dio ma la pazienza ha comunque un limite come la misericordia ha una fine lì dove comincia poi la giustizia di Dio sono così legate che per noi e per gli angeli è impossibile da dividere, da vedere dove finisce uno e comincia l'altro quindi è davvero un'altra prerogativa incredibile di Dio questa di unire misericordia e giustizia dunque in quel tempo il Vangelo comincia così in malo modo guai a voi scrivi o farisei ipocriti che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente di fatto non entrate voi e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare comincia con questo guai a voi beh, è un elemento importante nella Bibbia quando il Signore parla di guai cosa significa questa parola cerchiamo di capirne profondamente il significato per vedere a chi è rivolta questa parola dunque nel capitolo 1 al versetto 4 per esempio in Isaia parla proprio di guai quando si rivolge al popolo e dice questa espressione per cercare di farci comprendere una cosa molto importante cioè ne parla a loro che chiamano il bene male e il male bene che riescono a confondere le tenebre con la luce l'amaro con il dolce cioè cerchiamo di capirci quando parliamo di guai parliamo di un elemento davvero fondamentale cioè questi guai servono come ammonimenti contro l'ingiustizia contro l'ipocrisia e la mancanza di rettitudine ora parla proprio a questi farisei e a questi scribi definendoli ipocriti dunque noi dobbiamo cercare di guardare non gli uomini poiché nostro Signore ci dice non giudicate perché come giudicate così sarete giudicati dunque dobbiamo guardare al vero problema delle cose cioè l'ipocrisia ed è proprio l'ipocrisia che ci fa confondere la luce con le tenebre il bene con il male l'amaro con il dolce dunque dobbiamo essere attenti a non puntare il dito sugli scribi e farisei questo è compito di Gesù è lui giusto giudice lui chiamato a giudicare ogni cosa non è compito nostro il nostro compito invece per la nostra vita è cercare di essere attenti a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato cercare di essere prudenti perché l'ipocrisia non entri nelle nostre vite e Gesù debba necessariamente potente gridare il guai a voi contro di noi è che davvero Dio non voglia dunque è un elemento importante cercare di distinguere questo aspetto perché non dobbiamo puntare il dito contro le persone poiché non di carne e di sangue è il nostro nemico proprio come cita anche San Paolo ora l'aspetto importante che possiamo noi valutare in questa frase è che questa ipocrisia porta a un allontanamento così forte da Dio porta a un taglio di una relazione importantissima ma a un taglionetto di questa relazione con Dio dice di fatto non entrate voi chiudete il regno dei cieli agli altri e di fatto non entrate voi e non lasciate entrare neanche quelli che vogliono entrare dunque cerchiamo di guardare la cosa sotto un punto di vista personale perché davvero se noi cambiamo la nostra visione delle cose cambiando noi stessi comprendiamo il mondo che ci circonda in un altro modo ecco che il Signore ci invita a gettare via dal nostro cuore questa ipocrisia un'ipocrisia che ci taglia da questa relazione con Dio e di fatto ci condanna all'inferno eh ora guardate bene quello che succede dice chiudete il regno dei cieli davanti alla gente ora chiudere il regno dei cieli non vuol dire necessariamente finire all'inferno ma il regno dei cieli poiché è solo il paradiso vuol anche dire il purgatorio vuol anche dire il purgatorio dunque il Signore è ci fa comprendere degli aspetti importantissimi dove ci sta dicendo che seppure siamo ingannati da qualcun altro beh finiremo in purgatorio per noi il regno dei cieli è precluso ma non siamo nell'inferno eh tenete a mente questa parola prosegue il Vangelo dicendo a voi scribbie e farisei ipocriti che percorrete il mare e la terra per fare un solo proserito e quando lo avete fatto lo rendete degno della Geenna due volte più di voi ora cercate di capire bene che parla a coloro che sono capaci di fare il giro del mondo eh non guardare le proprie fatiche non misurare le proprie fatiche per interessi personali che sono lontani da Dio ecco che per loro non è precluso il regno dei cieli ma è aperta la Geenna cioè l'inferno eterno dunque il peso di queste parole che che molti sacerdoti ahimè non riescono a comprendere che questa misericordia di Dio è necessariamente legata a una giustizia ci parlano di un inferno vuoto ma non è così poiché il Signore quelle parole sono già condanna se tu non ti redimi se tu non ti converti eh questo è un aspetto non importante ma direi davvero fondamentale dunque guardare se stessi e girare il mondo per fare un solo proselito per ottenere poi chissà che ci fa guadagnare l'inferno due volte perché due volte rispetto a coloro che errano e magari sbagliano una sola volta nella lettera ai romani proprio al capitolo 1 al versetto 21 dice certi uomini commettono un peccato imperdonabile perché pur conoscendo la verità anziché ringraziare Dio ed essere devoti e reverenti per il bene che hanno profuso all'umanità scambiano la gloria di Dio con le sembianze di un uomo corruttibile di volatili di quadrupedi di serpenti dunque conoscono la verità sanno come stanno le cose ma lo cambiano appositamente al loro vantaggio ecco perché due volte condannati all'inferno mentre il Signore ci dice questo perché molti che guardano questo passo del Vangelo potrebbero dire ma allora io finisco all'inferno per colpa di qualcun altro no all'inferno ci andiamo con le nostre gambe con le nostre decisioni con le nostre scelte e perché questo ve lo spiego subito ci arrivo perché è un aspetto davvero importante dice il Signore continuando in questo Vangelo dice così guai a voi guide cieche che dite se uno giura per il Tempio non conta nulla se invece uno giura per l'oro che è nel Tempio resta obbligato stolti e ciechi cos'è più grande l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro dice e dite ancora se uno giura per l'altare non conta nulla se invece giura per l'offerta che ci sta sopra ne resta obbligato ora è un elemento davvero importante questo questo aspetto perché perché questa cosa è importante beh parla proprio delle guide cieche no che guidano fondamentalmente altri ciechi e perché siamo ciechi beh ce lo dice il Signore nella lettera ai Romani capitolo 1 passo 28 dove dice poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne dunque il problema di coloro che si dannano non è perché gli altri li hanno indotti nella cattiva strada ma perché non hanno mai ritenuto di approfondire la cosa di conoscere Dio adeguatamente di preoccuparsi di ciò che è bene e di ciò che è male di ciò che per loro è vita o per loro è morte dunque Dio li lascia e li abbandona in quel libero arbitrio a voi potrà sembrare pesante la parola abbandonare ma se qualcuno ti costringe a fare qualcosa beh quella cosa la fai per forza l'amore non si può fare per forza è una scelta dunque a malincuore Dio abbandona i figli che si incamminano in questa strada senza riflettere o pensare a quali sono di fatto poi le conseguenze che dovranno pagare in futuro ecco dunque che dobbiamo cercare di capire cosa significa guai e e che questi guai non sono come ho già detto rivolti alle persone ma vengono rivolte proprio all'ipocrisia al peccato a ciò che distorce il bene che è in noi e ci fa camminare per una via che non è di fede dunque guardare se stessi è un po' come dicevamo guardare una gloria effimera e la cosa interessante però qui in questo passo del Vangelo è che la luce del Signore fa rinsavire le persone perché in questa spiegazione noi riusciamo a comprendere cosa significa guai e cosa significa essere ciechi e che essere ciechi è un po' dire beh fondamentalmente ho scelto questo e perché non capisco qual è bene o male ora esistono delle condizioni e delle situazioni dove il peccato fatto precedentemente è così reiterato è così forte è così grave che se noi mettiamo un po' di fango sull'occhio ancora qualcosa vediamo ma se continuiamo a mettere fango sugli occhi dopo un po' non vediamo più niente così è il peccato così è la salvezza ecco come noi dobbiamo cercare davvero la luce come un po' lavarsi i denti dalle impurità se ci lasciamo l'impurità viene la carie dunque cerchiamo di guardare al Cristo come il medico come quella luce che ci permette di vedere le situazioni nel mondo di oggi la situazione che stai vivendo adesso con una prospettiva nuova una prospettiva diversa ma soprattutto una soluzione che prima non avevi ecco e questo è di fondamentale importanza il Signore dunque continua a parlare per cercare di dare una correzione a quelli che sono i cuori sinceri e dice ciechi che cos'è più grande l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta ebbene chi giura per l'altare giura per l'altare quanto vista sopra chi giura per il tempio giura per l'altare giura per il tempio e per colui che lo abita e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso parla di un giuramento parla di un giuramento ma voi vi siete mai chiesti cosa significa giurare perché questo è un elemento che va approfondito tante volte noi diciamo nella nostra vita no ti giuro è così ok ora cosa significa giuramento per Dio è proprio quell'invocazione che noi facciamo a Dio perché Lui e non noi sia testimone di una verità cioè Dio stesso afferma che quella cosa è vera se ora in te e in me non c'è verità perché in noi non c'è la verità tutta intera no magari ci sarà un pezzetto di verità ma tu chiami Dio a diciamo così affermare una bugia perché se la verità non è intera e non è una verità è una bugia dunque non esistono le bugie bianche come non esistono le mezze verità per noi esistono dei punti di vista soggettivi ma poiché noi dobbiamo guardare le cose da un punto di vista oggettivo beh Gesù vieta di giurare ed è un elemento importante nella nostra vita questo dice proprio in Matteo in capitolo 5 avete anche inteso che fu detto dagli antichi non giurerai il falso ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti ma io vi dico non giurate affatto né per il cielo perché è il trono di Dio e tu di qui la verità non ne sai niente né per la terra perché è lo sgabbello dei suoi piedi dunque idem né per Gerusalemme perché non sai ciò che in essa succede o è successo in quei cuori perché poi è la città del grande re che parla sempre di lui stesso parla di Gesù parla di Dio nuovamente non giurare neppune per la tua testa perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello dunque quando tu giuri che hai capelli bianchi o li hai neri beh tu lo lo attesti solo in un determinato momento della tua vita questo cambia quindi quello che tu hai detto non è verità ma ci rendiamo conto di questa cosa che è di fondamentale importanza perché è l'approccio con cui noi vediamo le cose tu dici io ho i capelli neri non dici adesso io ho i capelli neri in questo momento ho i capelli neri tu dici io ho i capelli neri ma questa non è una verità è un pezzetto dunque è una bugia perché magari fra dieci anni ce li avrai bianchi tu non hai avuto i capelli neri c'è stato un momento dove non ce li avevi proprio e il signore dice appunto di non giurare per un solo capello perché non abbiamo la capacità di capire se questo è bianco o nero no? se invece dice sia invece il vostro parlare sì sì no no ora io ho fatto questa disquisizione sui capelli adesso no? per farvi rendere conto che sembra qualcosa di giusto che sembra qualcosa di giusto guardate cosa dice Gesù riguardo a quello che ho detto io ora dice il di più viene dal maligno dunque dobbiamo fare attenzione perché in un determinato momento qualcuno ci istiga a dire delle cose che non vengono da noi ora questo discorso sui capelli era molto semplice se ce li hai sì se non ce li hai no se sono bianchi sì se non sono bianchi no questo per noi è chiarissimo ma cercare di capire quella verità ci porta in un tempo che noi non sappiamo capire gestire vedere guardare non sappiamo né profetizzare e tante volte men che meno capire bene le cose di oggi dunque è importante cercare di rimanere con i piedi per terra e con tutte le forze cercare questa verità di Dio che Lui ci rivelerà man mano che la nostra fede diventa sempre più grande è una conversione che è costante ogni giorno ogni momento e in questo dire sì cresce ciò che il Signore ci rivela cresce la verità in noi cresce uno splendore cresce quella luce che è in noi nel nostro cuore nei nostri occhi perché stiamo camminando sulla retta via dunque davvero vi auguro fratelli miei e sorelle mie di camminare per una via di luce dove quando c'è qualcosa che è poco chiaro non siamo ipocriti ma cerchiamo quella verità che non è nostra cerchiamo quella fede che non è nostra cerchiamo quella luce che non è nostra ma che ci dice esattamente come stanno le cose non in maniera soggettiva ma in un modo davvero unico oggettivo per il modo di parlare ma direi davvero da Dio e che anche oggi la benedizione discenda su tutti voi sui vostri cari sulle vostre famiglie e se potete mettete un like condividete il video vi ricordo soprattutto di ricordarvi di me nelle vostre preghiere se potete e ci vediamo domani sui vostri cari che ero di il giudice di